E nei pressi del portale diventa più penetrante che lei. Outrider, devo sapere da dove proviene. Tiago aveva ragione, Sorronzio. Sto battendo i denti dalla vibrazione. Strana struttura. Sembra esserci un meccanismo. Sto battendo i denti dalla vibrazione. Sto battendo i denti dalla vibrazione. Sto battendo i denti dalla vibrazione. Sat. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buona vista. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.